Benvenuto a Mauro Vigorito. Come stai? Come stai vivendo questo periodo? È più difficile per te sapendo che alcuni tuoi familiari sono lontani in Sardegna? Ciao a tutti. Sì, mi trovo a Lecce e da un paio di settimane mi trovo da solo perché la mia compagna è tornata in Sardegna perché aspettiamo tra due mesi la nostra prima bambina e avevamo il desiderio di farla nascere nella nostra terra quindi adesso sì mi trovo da solo e anche il resto della mia famiglia sta in Sardegna, mio padre, mia madre, mia sorella. La viviamo tutti con un po' di preoccupazione perché comunque è una situazione di emergenza totale quindi la preoccupazione è tanta diciamo. Poi oltretutto soprattutto i miei genitori è tanto che non li vedo e da Natale che non torno a casa però si fa insomma di tutto per cercare di sentirli il più possibile, chiamate, videochiamate più spesso anche in questo periodo quindi cerchiamo di starci vicino in questo modo. Tu, Mancoso e Deiola, da Sardi, vi sentite spesso tra di voi? Seguite con attenzione le vicende della vostra terra? Sì, io, Marco e Alessandro in generale ci sentiamo spesso e noi Sardi siamo comunque anche in situazioni più tranquilli diciamo spesso attenti a ciò che riguarda il nostro territorio perché siamo molto legati e ci sentiamo spesso, Alessandro lo conoscevo poco sia come persona che calcisticamente è stata una grande sorpresa in positivo, in campo lo sta dimostrando a tutti insomma e personalmente è un ragazzo eccezionale. Con Marco ho un rapporto che va ben oltre il campo e anche se siamo due teste dure spesso ci scontriamo però abbiamo un bellissimo rapporto. Tra tante rinunce che si fanno, cosa ti sta mancando di più? La cosa che manca di più credo che sia la quotidianità degli allenamenti l'andare al campo, la voglia di allenarsi, di stare negli spogliatoi le cose quotidiane che veramente in questo momento prima magari si davano quasi per scontato e ora invece mancano veramente tantissimo quindi direi questo. Cosa ti piacerebbe fare appena l'emergenza sarà finita? Ci sono tante cose che avrei piacere di fare come ho detto prima innanzitutto riprenderci la nostra vita penso che veramente in questo periodo ci aiuti a capire che forse tante cose semplici sono fondamentali per noi quindi vorrei tornare a fare tutte quelle cose a cui prima magari uno dava poca importanza e spero che tutti potremo farle il prima possibile. Come trascorri le tue giornate? Tra allenamenti per mantenerti in forma e passioni da riscoprire? Sì, mi alleno ogni giorno a casa e ogni giorno smonto il mio salotto che è l'ambiente un po' più grande che ho a disposizione e svolgo dei programmi personalizzati cercando di variarli il più possibile. Per il resto della giornata mi occupo del mio bulldog gioco a playstation parecchie ore con compagni, ex compagni di squadra è anche un modo per tenersi in contatto ascolto spesso musica anche durante gli allenamenti i miei cantanti preferiti da sempre sono i Negramaro e l'anno scorso ho avuto la gioia il giorno della festa promozione di conoscere di persona Giuliano è stata veramente un'emozione grande per me che li seguo da 12-13 anni. Con i guanti da forno sei bravo come con i guantoni? Te la cavi in cucina? Non mi piace cucinare per niente però in questi momenti di emergenza trovandomi anche da solo mi devo adattare quindi so fare le cose basilari insomma per sopravvivere mi piace più mangiarle anche le cose della nostra cucina sarda mi piace più mangiarle quando me le preparano quindi mi sto dando da fare e mi arrangio insomma. Lo staff tecnico vi segue anche a distanza hai mantenuto le stesse abitudini o ti concedi qualche strappo alla regola? Come ti stai allenando? Per quanto riguarda l'alimentazione ci sto molto attento perché comunque è un periodo dove non siamo in grandissima attività oppure alleandoci a casa quindi ci sto attento poi non sapendo cucinare un granché sono anche avvantaggiato. Qualche ora di sonno in più sì perché la notte faccio più fatica ad addormentarmi quindi magari la mattina mi sveglio un po' più tardi ma solo perché faccio fatica a prendere sonno la sera. Sì, i primi giorni mi adattavo un po' con quello che avevo in casa e poi avendo capito più o meno da subito che sicuramente la situazione sarebbe un po' prolungata mi sono attrezzato ho comprato diversi attrezzi appunto del lavoro su internet e ora ho quasi tutto a mia disposizione qua a casa almeno l'essenziale per allenarmi e cerco di fare con quelli. La porta con due ciabatte la vorrei fare però non ho chi mi tira il mio cane ancora non è tanto bravo a calciare. Com'è il rapporto con i tuoi colleghi in porta? E con mister Sassanelli? Con Gabriel abbiamo un rapporto normale da compagni di squadra basato sul rispetto poi siamo due persone sicuramente con un carattere e una personalità molto differenti tra loro però alla base c'è sempre il rispetto con Chironi lo stesso scherzo molto ci prendiamo molto in giro anche con Bleve prima che andasse via avevamo un rapporto molto giocoso e con Gigi ormai con Sassanelli sono due anni che ci conosciamo e in questi due anni penso di aver stabilito un bel rapporto con lui basato molto sulla sincerità siamo due persone molto schiette e non ce le mandiamo a dire quindi siamo molto sinceri l'uno con l'altro e questo secondo me è una cosa bella positiva che deve esserci soprattutto nel gruppo dei portieri che è una squadra dentro la squadra ci sentiamo sì spesso comunque ci stiamo confrontando anche in questi giorni spesso e penso che a tutti manchino stare insieme e allenarsi di gruppo tra di noi perché è la nostra base due promozioni consecutive dalla B alla A con il Frosinone e con il Lecce differenze e similitudini mi piace dire che le differenze sono tantissime perché sono state comunque due esperienze uniche quella col Frosinone da una parte forse era più scontata tra virgolette nel senso che comunque la squadra era costruita per fare quel tipo di campionato e siamo stati al vertice lottando con 5 o 6 squadre veramente forti quell'anno perdendo tutto l'ultimo minuto dell'ultima partita di campionato poi la cosa unica e più bella di quell'anno è stata che quando tutti ormai i playoff ci davano per molti e celebravano il nostro funerale un gruppo di uomini ha dimostrato nonostante un colpo durissimo di sapersi rialzare è andata a vincere quei playoff col Palermo mentre quella con Lecce è stata una cavalcata incredibile perché è stata inaspettata ma soprattutto un continuo crescendo di prestazioni di convinzione di emozioni una cosa che poi andava all'unisono con tutto l'ambiente perché più passavano le giornate più si faceva forte la convinzione di farcela e finché poi è esplosa in quella festa dell'11 maggio che credo che sia stata una cartolina veramente per tutto il calcio per tutto lo sport perché è stata una giornata bellissima e indimenticabile come giudichi il tuo percorso da professionista fino ad oggi? L'esordio in A è arrivato da giovanissimo poi hai maturato esperienza prima del ritorno nella massima serie Il mio percorso da professionista è stato diciamo soprattutto all'inizio una serie di alti e bassi perché probabilmente per la giovane età non avevo ben chiaro il concetto di professionismo ma non nelle cose nei particolari nel curarsi bene infatti i primi anni della mia carriera ho subito diversi infortuni importanti e mi hanno parecchio rallentato poi ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste che mi hanno indirizzato su una cultura del lavoro molto più attenta e da lì diciamo che ho avuto un percorso in crescendo che mi ha portato specialmente in questi ultimi due anni a vincere questi due campionati dalla B alla A spero di elevarmi ancora a tante soddisfazioni e di farlo magari ancora con questa maglia che fino ad oggi penso che me l'abbia date tante quali sono secondo te i punti di forza di questo Lecce in che occasione li ha dimostrati penso che la forza principale di questo Lecce sia quella del gruppo penso che questo l'abbiamo dimostrato in diverse occasioni anche quest'anno e che sia la nostra arma per raggiungere il nostro obiettivo perché siamo una squadra che fa del collettivo la sua forza non ha sicuramente degli ottimi giocatori ma non ha il giocatore che può da solo determinare la partita quindi penso che questo lo sappiamo bene e dobbiamo cercare di spingere su questa nostra caratteristica poi di cose da migliorare ce ne sono tantissime perché è un campionato difficile siamo al primo anno dopo tanti anni quindi era normale che sarebbe stata un percorso in salita è molto duro però credo che stiamo giocando le nostre possibilità al meglio il mister saprà sicuramente indirizzarci su sulle cose migliori da fare per cercare di arrivare al nostro obiettivo ci parli delle emozioni che ti suscita il pubblico giallorosso? penso che sia una tifoseria che più di altre porta un giocatore a responsabilizzarsi ancora di più perché comunque vive di grande passione è molto numerosa e segue la squadra veramente in ogni parte d'Italia anche in Serie B era così quindi questo penso che porti noi personalmente a cercare di dare qualcosa di più credo di avere un buon rapporto non sono una persona abbastanza equilibrata non sono uno da grandi proclami non sono molto social che forse al giorno d'oggi fa tanto però penso di essere un professionista che porta sempre rispetto a tutti e quindi preferisco stare così un po' più magari in silenzio però sono fatto così caratterialmente ma penso che queste cose vengano apprezzate mando un caloroso saluto a tutti i tifosi giallorossi con l'augurio di poterci rivedere presto per poter lottare soffrire ed esultare tutti insieme nella nostra casa al Via del Mare e in giro per l'Italia però adesso c'è una battaglia più importante da vincere una sfida molto dura dove ognuno deve fare la sua parte rispettando le regole che ci vengono date e cercando di uscirne tutti insieme per tornare alla nostra normalità ciao a tutti un abbraccio un abbraccio un abbraccio